Ciao rockstar dell'italiano! Durante il giorno sembrano innocui, gentili e affabili. Vogliamo soltanto aiutarti, ti dicono. Siamo qui per migliorare il tuo italiano. Ti vogliamo bene. Vieni con noi, ci divertiremo un sacco. Ma appena finisce il tramonto e il crepuscolo inizia, chi di giorno sembrava tuo alleato per imparare l'italiano, si trasforma in un vampiro. Un vampiro che si nutre del tuo tempo prezioso, che spreca inesorabilmente il tuo tempo. E ora muniamoci di aglio e vediamo insieme quali sono alcuni dei più grandi perdi tempo da evitare quando impari l'italiano. Vampiro numero uno. Liste di parole e frasi a caso. Solo perché tutti lo fanno non significa che sia giusto. Solo perché nessuno lo fa non significa che sia sbagliato. Internet è un oceano, è come essere in un enorme mercato dove tutti urlano e gridano per attirare la tua attenzione. E così succede anche nel mondo delle lingue. Ogni secondo il tuo schermo proietta dei video, post, articoli che vogliono insegnarti le parole e le frasi più utili e raffinate in italiano. cercano di attirare la tua attenzione e il tuo tempo. Come si dice in italiano questo? 56 frasi difficili che i madrelingua usano tutti i giorni. Fermati un attimo e pensa. Cosa me ne faccio di queste frasi? Ho guardato un video di uno o anche dieci minuti, ma dove mi porteranno queste frasi e parole sconnesse tra di loro senza alcun contesto? Non è esattamente come abbiamo imparato le lingue a scuola, ovvero liste di vocaboli a caso da memorizzare. Senza un contesto ampio che realmente ti interessa, non imparerai mai l'italiano. Vampiro numero due. Alternative per dire parole e frasi. Continua la sagra delle parole e frasi a caso. Ma questa volta si tratta del trend del momento, che purtroppo dura già da troppo tempo. Non dire questo è troppo banale, è troppo noioso. Invece usa queste alternative avanzate. Così diventerai un madrelingua e come bonus ti cresceranno le ali per volare. Sul serio, ti consiglio con tutto il mio cuore e con tutta la mia onestà intellettuale di non seguire questi profili o perlomeno di non guardare questi video. Che male c'è a dire posso farti una domanda invece di posso porti una domanda? Oppure timbrare il biglietto del bus invece di obliterare il biglietto del bus? O ancora, cosa c'è di noioso a dire come stai? Ci sarà un motivo per cui nella vita di tutti i giorni queste parole e frasi vengono sempre usate. Sono parole frequenti, non sono parole facili, così come le alternative non sono difficili, ma meno frequenti e magari più adatte ad altri contesti. Questi tipi di video possono anche farti stare male, perché tu finora hai solo usato delle parole banali e facili. Se vuoi avere dei sinonimi di una parola puoi sempre cercarli quando ne hai bisogno in un determinato momento e contesto. E anche qui, mi ripeto, senza un contesto più ampio tutte le alternative hanno poco senso e non sai comunque come e quando usarle. Vampiro numero 3. Quiz a risposta multipla. I quiz sono divertenti e ti aiutano a capire quello che sai e che ancora non sai. Ok, ma la vita reale, quando parli o scrivi con qualcuno, non ti dà delle possibili risposte che potresti usare, no? I quiz, soprattutto quelli a risposta multipla, valutano le tue conoscenze passive. Per parlare o scrivere hai però bisogno di conoscenze attive. E se invece di fare quiz dopo quiz leggessi o ascoltassi qualcosa di interessante in italiano? Ma Moreno, i quiz non fanno male a nessuno. Davvero? Secondo me fanno male al tuo tempo prezioso. Ricordi? Stiamo dando la caccia ai vampiri del tempo. E mi dispiace se ora ti riporto con i piedi per terra, ma solo perché rispondi bene ai quiz non significa che tu sappia bene l'italiano. I quiz possono darti una falsa sicurezza e possono gonfiare il tuo ego a dismisura come il bicipite di Schwarzenegger. E anche qui, ma alla fine, tutti questi contenuti nell'insegnamento online non seguono più o meno lo stesso principio di quelli classici a scuola? Dove sta la differenza? Solo perché gli insegnanti sono più motivati ed entusiasti non significa che sia diverso. Spesso cambia il formato, ma non la sostanza. Vampiro numero 4. Le app rivoluzionarie. Visto che stiamo parlando di formato, che dire delle app cosiddette rivoluzionarie che si basano principalmente su metodi e principi in uso già da centinaia di anni, se hai intenzione di imparare l'italiano sul serio e non perdere troppo tempo, lascia stare le app per imparare le lingue. Le uniche app essenziali sul tuo cellulare sono i dizionari e il browser. Vampiro numero 5. Studiare pillole di grammatica a caso. Prima la teoria e dopo la pratica o prima la pratica e dopo la teoria? Studiare pillole di grammatica senza aver prima incontrato le strutture in questione. In una situazione reale, come in articoli, film, podcast, eccetera, è come studiare la cartina di Milano prima di visitarla. Resterà tutto molto astratto e non tangibile. Se invece, mentre visiti la città, studi la cartina, quello che vedi sulla cartina diventa molto più logico e può essere connesso con la realtà, con ciò che stai visitando. Morale della storia? Consulta le regole di grammatica soltanto se, quando leggi o ascolti qualcosa che ti interessa, incontri una struttura che non ti è chiara. Tu sei Sherlock Holmes e le spiegazioni grammaticali sono il dottor Watson a cui chiedi consiglio in caso di necessità. Vampiro numero 6. Aspettare la parola del giorno. Che senso ha aspettare che la parola del giorno appaia sul tuo schermo? Un fenomeno molto diffuso sui social media. Perché aspettare qualcuno che ti dica che oggi devi imparare quella parola? Prova a cambiare atteggiamento. Passa dal insegnami, dammi da mangiare, a dammi gli strumenti che posso usare per imparare. Passa da uno stato passivo e attendista a uno stato attivo e propositivo. Prendi in mano le redini del tuo apprendimento. Vampiro numero 7. Ascoltare soltanto passivamente. A proposito di passività. Il segreto è il tanto ascolto mentre fai altre cose. Tutto qui. Così dicono. Ah bene, grazie. Allora mi metto subito ad ascoltare migliaia di ore di italiano mentre porto a spasso il cane e mentre cucino. E prima o poi il mio cervello sarà programmato in italiano. Mi spiace ma non funziona così. Senza momenti di ascolto attivo e concentrato, i tuoi progressi saranno come aspettando Godot. Vampiro numero 8. Usare i social media nel modo sbagliato. È utile usare i social media per imparare l'italiano? Ma certo, se lo fai in modo intelligente. Invece di cercare e seguire i profili che ti insegnano la lingua tramite le cose di cui abbiamo parlato poco fa. Parola del giorno, pillole di grammatica, quiz, liste eccetera. Segui dei profili italiani che parlano di cose per te interessanti e coinvolgenti e segui i profili di insegnanti di cui pensi che portino realmente un valore aggiunto. I social media sono principalmente stati creati per attirare la tua attenzione e farti stare incollato il più possibile nel feed. Come stiamo attenti al cibo che mangiamo? Perché non stiamo anche attenti a quello che mangiamo mentalmente? Impari la lingua tramite il contenuto e impari il contenuto tramite la lingua. Vampiro numero 9. Diventare collezionista di corsi colpevole nel senso dell'accusa. Invece di collezionare dozzine di corsi e libri che iniziamo e probabilmente non finiamo mai, proviamo a concentrarci su uno alla volta. Quando abbiamo finito passiamo al prossimo e così via. Per me, che sono interessato a mille cose, è un'impresa ardua. Ma anche se ogni tanto ci ricasco, sto migliorando. Fallo anche tu con l'italiano. Una cosa dopo l'altra. Il multitasking è una bugia. Non esiste e ti fa perdere tempo. Bene, direi che abbiamo cacciato abbastanza vampiri del tuo tempo. Sono stato diretto nelle mie opinioni? Forse, ma tieni conto che lo faccio perché voglio che tu raggiunga veramente i tuoi obiettivi con l'italiano e voglio che il mondo dell'insegnamento delle lingue online diventi più realistico e reale e che abbia meno bling bling. E tu? Di quali di questi vampiri vuoi sbarazzarti? Fammi sapere. Prima di lasciarti, ho una novità importantissima da comunicarti. Di Italian Coach e il podcast sono in continua evoluzione e dopo quasi quattro anni e quasi cento episodi con le trascrizioni gratuite, a partire da questo episodio, il numero 97, per ricevere la trascrizione in pdf sarà necessario essere un membro del podcast. Cosa significa? Significa che con almeno un caffè al mese, che corrisponde a 3 euro, avrai accesso a tutte le trascrizioni future. Puoi scegliere tra pacchetti diversi e ogni pacchetto include differenti materiali e contenuti extra, come dirette ed esercizi di conversazione esclusivi. In tutti i pacchetti sono comunque incluse le trascrizioni in pdf. Ti lascio il link nella descrizione dell'episodio e trovi tutto anche sul mio sito italiancoach.net. Non è stata una decisione semplice, ma alla fine, per continuare questo podcast a lungo termine e mantenerne e migliorarne la qualità. Questo mi è sembrato il prossimo passo naturale da percorrere. La mia missione sarà sempre la stessa, aiutarti a imparare l'italiano in modo indipendente ed efficace per diventare una vera rock star dell'italiano. Magari adesso sarai deluso, arrabbiato o triste per questa notizia, ma ovviamente il podcast stesso resterà sempre gratuito. Ok, sarei contentissimo di vederti dall'altra parte come membro nella comunità e se hai domande o vuoi comunicarmi la tua disapprovazione scrivimi a ciao-italiancoach.net. Leggo sempre tutti i messaggi e rispondo anche sempre a tutti. Grazie veramente di cuore per l'ascolto, non importa se hai scoperto il podcast solo da poco o se sei un fedele seguace dall'inizio. È comunque grazie a te che questo progetto va avanti. Ci sentiamo presto, un carissimo saluto. Ciao ciao!